Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. La ragazza scomparsa da Pianoro, Bologna, il 22 giugno, ha finalmente dato notizie di sé chiamando i genitori. La telefonata è arrivata dopo l'appello disperato dei familiari alla trasmissione Pomeriggio 5 News. La ragazza, pur non rivelando il suo esatto luogo, ha rassicurato i genitori dicendo di stare bene e di trovarsi lontano da Rimini, probabilmente su un treno. In compagnia di un ragazzo la cui identità è rimasta nascosta. L'avvocato Barbara Iannuccelli dell'Associazione Penelope ha confermato che presto la minore tornerà a casa e riabbraccerà i suoi cari. La madre della ragazza, in collegamento con la trasmissione Mediaset, ha raccontato l'incredulità e il sollievo nel ricevere la chiamata da un numero privato, dove la figlia ha affermato di stare bene, nonostante non avesse visto l'appello televisivo. Ha spiegato che la figlia è stata vaga, non specificando chi fosse il ragazzo che l'accompagna. Il padre ha aggiunto che la ragazza ha parlato di essere innamorata e desiderosa di stare con questo ragazzo. Ora la famiglia è in attesa di riabbracciarla presto, sperando in un rapido ritorno a casa.